Alla libertà di opinione si affianca la libertà di informazione, cioè di critica, di illustrazione di fatti e di realtà. Si affianca in democrazia anche il diritto a essere informati in maniera corretta, informazione cioè come anticorpo contro le adulterazioni della realtà. Operare contro le adulterazioni della realtà costituisce una responsabilità e un dovere affidati anzitutto ai giornalisti. La legge Gonella, che ha istituito l'ordine dei giornalisti, ne dà una rappresentazione pregevole. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui. Ed è loro obbligo, prosegue la legge, loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.